Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video youtube Allora, oggi sono qui perché vi devo comunicare una notizia importante Però non lo farò all'inizio del video perché prima ci sono altre cose che vi voglio raccontare Adesso sto preparando i riso basmati, mangerò con me un po' di tonno per cena e poi ho tipo altre cosette, qualcosina Andrò anche a vedere il concerto di Hirama Erkyomi e quindi sarà molto interessante Allora, la prima cosa che ci tengo molto a dirvi è che io ho caricato un video che da voi è stato considerato poco poco E invece no, perché è importante, quindi ve lo ribadisco in questo video, ve lo sottolineo Prima poi di dirvi l'annuncio importante che ve lo giuro vi stupirà E non ve lo aspettate Perché è una cosa che riguarda una tipologia di video che c'è sul mio canale Che amate, la foglio comunque tantissimi di voi amano E quindi, eh Allora, prima cosa Questi giorni, adesso non so bene quando, registrerò lo speciale 5.000 iscritti Dove risponderò alle vostre domande creative Ve ne ho parlato meglio in uno scorso video che vi lascio anche qui sotto nell'info box È un video dove ci sono due occhi blu Andatelo a guardare, lasciatemi una domandina Aspettate, devo mettere il riso a cuocere Mi sono reso a cuocere E no, ci tengo, cioè nel senso che è una cosa secondo me molto carina E potete scrivermi anche in privato, su Telegram, sul nostro gruppo Telegram Su Instagram per me, dove volete Non è, cioè non è, diciamo, quello l'importante Però mi farebbe molto piacere ricevere una vostra domanda Perché, sì, così io adoro fare questi video Quindi voglio fare una cosa un po' carina, quindi mi raccomando Seconda cosa Adesso si avvicina il Black Friday Almeno per quest'anno, comunque per il momento Non ho, diciamo, cose da comunicarvi riguardo a questo, sconti e altro Soltanto una cosa Io ho Vinted Con Aspettate che ho messo un attimo il fuoco Ok? Allora, io ho Vinted con un insieme di articoli che io ho caricato Che sono tutte cose che non usiamo più Avevo messi a prezzi bassissimi E mi chiedo solo di dare un'occhiata Scusate se mi vedete un po' tipo bianca Strana Non ho fatto niente di particolare Ma soltanto che Per sbaglio mi sono addormentata sul luano Tipo una mezz'oretta Quindi se mi vedete un po' Con gli occhi non è che È solo che mi sono appena svegliata E vi caricherò su Vinted un sacco di articoli Adesso ci sono 150 articoli Tra orecchini, libri, vestiti, un sacco di cose Però nei prossimi giorni vi caricherò anche dei giubbotti Delle scarpe, altri libri, altri gioielli Un sacco di cose in più E niente, date un'occhiata Così almeno se c'è qualcosa che vi interessa Oppure ditemelo Sono tutto iscritto Così ve lo metto anche a un prezzo ancora più basso Come se tutto ha 2, 3, 4, 5 euro Neanche, c'ho veramente Quindi andate a dare un occhio Vi lascio il link qui sotto nella descrizione E niente Quindi questi erano gli annunci Quelli un po' così Quelli un po' spicci spicci Adesso possiamo arrivare al clou di questo video Quindi se siete pronti ve ne parlo Chissà che cosa vi do l'ora qua Allora Innanzitutto Nei prossimi giorni vi caricherò Un secondo horoscope Per tutti i semi zoviacali Quindi mi raccomando Rimanete aggiornati Tutti i semi zoviacali Ma Non è questo quello che vi volevo dire in questo video Allora Io Tutto è nato da un paio di Mesi fa Dove ho iniziato a fare questa serie Con il ragazzo muscoloso Che è andata molto virale Vi è piaciuta tantissimo Tantissime persone Mi hanno preso in giro per questa cosa A me Non ho potuto toccare minimamente la cosa Perché mi ha fatto vedere Quanto certi elementi Sono O comunque Si palesano ridicoli E invece tantissime persone L'hanno amata Allora io Ne ho parlato con un po' di persone Ci siamo adoperati per Fare un upgrade di questa serie No? E ci sarà un nuovo episodio Già qui E infatti Vedete che Perché oggi È stata la giornata della registrazione Non uscirà Subito Credo che ve lo farò uscire lunedì Penso che ve lo farò uscire lunedì Così mi prendo bene il weekend Per preparare tutto Perché poi Ho anche un sacco di Annessi Cose mie Nella vita privata A fare Di lavoro Quindi Penso che lunedì Possa essere un buon accordo Per tutti E ve lo faccio uscire Ve lo faccio uscire bomba Ha ovviamente Non so perché Ogni volta C'è sempre una prova Ha un piccolo Fischio Di sottofondo Della luce Pace Cioè Non è che posso buttare Il lavoro Per un Cioè Pace Portate pazienza Pace È un video smr È un video che a tratti Non è smr Perché non riuscivamo A trattenerci da ridere Quindi Portate pazienza È una prova Vediamo come è Ci siamo impediti tantissimo L'ho realizzato con Tre persone E ero io come infermiera Più altre due infermiere Quindi è stato bellissimo E ci l'ho messo tantissimo Di prepararlo È molto diverso Da come voi Ve lo potreste immaginare Perché c'è un dettaglio C'è un dettaglio ragazzi E c'è un dettaglio Proprio sul ragazzo muscoloso Ma penso che lo metterò Bello in grande Nel titolo Magari Adesso A fine di questo video Vi lascio Un piccolo spoiler Della copertina Del video Ma proprio piccolo 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 Perché vi aspetto Poi lunedì Alle due E iscrivetevi al canale E basta Questo era l'annuncio Ma sarà un video Di fiocchi Quindi Fatemi la domandina Mi raccomando Potete farla anche sotto questo video Una domanda originale La quale vorreste che io Rispondessi In generale Da fare a me Carina Simpatica Interessante Io poi risponderò nel video speciale Per i 5.000 iscritti Date un'occhiata a Vinted Vi lascio lì qui sotto E sciogliamolo Lui di con i video Del ragazzo muscoloso Che È successo qualcosa C'è Questa serie Che ho inventato Ovviamente Io l'ho fatta cambiare E l'ho migliorata E ho fatto No Non posso dire altro Ci chiediamo l'unione Lui Iscrivetevi al canale Ciao Ciao Ciao